Nuove sorprese dal cuore della montagna della Valle Antrona, grazie ad antichi documenti privati risalenti anche al tardo 1600. Carte impolverate che sono state segnalate al Team Underground Adventure, gli speleologi che con Lucia e Massimo Gagliardini di valleantrona.com sono impegnati nella riscoperta e valorizzazione delle antiche miniere d'oro valligiane. Gli speleo hanno preso visione dei documenti che aprono un altro capitolo straordinario di questa storia. I fogli, scritti a mano con un italiano dell'epoca, raccontano miniere di cui nessuno sospettava l'esistenza. Emerge anche un dato importante, nove miniere sono ancora completamente sconosciute, abbandonate e tutte da esplorare. Ma la notizia che suscita più entusiasmo tra gli addetti ai lavori è quella che i minatori avevano individuato altri cinque filoni auriferi ancora non sfruttati, avevano fatto delle campionature di minerale coinvolto per i loro calcoli diversi ingegneri minerari. I risultati furono che, nella peggiore delle ipotesi, avrebbero guadagnato il doppio di quanto investito negli scavi. Se il tenore d'oro fosse stato invece superiore al minimo da loro usato per i calcoli, i guadagni sarebbero stati dalle 10 alle 20 volte superiori. Vi è così tanto minerale ancora occultato nel senno della montagna che, secondo i loro calcoli, avevano lavoro per almeno altri 20 anni, spiega Matteo Di Gioia del team Underground Adventure. E prosegue, il progetto degli scavi indica con precisione dove si sarebbero dovuti continuare i lavori per raggiungere l'oro della Valle Antrona. Poi, però, arrivò la Seconda Guerra Mondiale, che condannò all'oblio l'oro, le miniere e l'intera vicenda. La Valle Antrona nasconde così, tra le viscere delle sue montagne, secondo questi documenti, ancora un immenso comprensorio minerario e filoni d'oro ancora tutti da scoprire.